Buonasera a tutti, sicuramente abbiamo assistito a una giornata interlocutoria sui principali mercati azionari europei e anche su quelli statunitensi. Per quanto riguarda il mercato azionario italiano la situazione è stata complicata ovviamente dallo stacco dividendi, perché vi dico questo? Perché come sapete nonostante io legga tutti i vostri commenti però non devo negare che l'analisi che mi appresto a fare sia particolarmente complicata perché io per mia scelta non uso grafici rettificati per cui per colpa del passaggio Optic mi trovo ovviamente con i titoli che hanno avuto degli stacchi importanti per esempio Saras con variazioni molto negative sul grafico e per quanto riguarda invece le mie piattaforme di trading ma anche Borsa Italia abbiamo dei valori molto molto diversi perché come vi ho già spiegato più di una volta ma vi ribadisco in questo video è cambiato il sistema di calcolo perché non viene più preso il riferimento di venerdì ma il riferimento di venerdì con già lo stacco del dividendo detratto per cui ovviamente Saras oggi fa meno 14 adesso poi vedremo nel dettaglio ma in realtà le piattaforme di trading e Borsa Italiana dicono più 0,4 quindi mi scuso con voi se per qualcuno che usa invece i grafici rettificati sia una lettura totalmente diversa però io negli anni sono arrivato a pensare che in fondo lo stacco è un qualcosa che viene tolto dall'azione dal prezzo dell'azione quindi ci può stare che ci sia un gap nel grafico che è dovuto a uno stacco soprattutto se questo stacco è stato molto importante come quello di Saras non perdiamo però ulteriore tempo e iniziamo subito dagli indici americani e ovviamente dobbiamo partire dal Dow Jones vedete che continua a essere l'indice più debole a parte Russell 2000 perché dopo la correzione di venerdì anche oggi sta al momento scambiando in frazionale ribasso con però un ritest della media mobile A50 33.220 avendo fatto un minimo in tra lei a 33.207 adesso ha leggermente recuperato chiudersi in questo momento sarebbe una spinning top vedete che se tracciamo anche una rialzista partita dai minimi del 15 di marzo la facciamo passare per il minimo del 4 di maggio oggi questo livello viene perso per cui c'è sempre questa situazione di minor forza relativa rispetto allo standard per 500 e al Nasdaq allo stesso tempo come vi ho già detto considero soltanto estremamente pericolosa una discesa sotto il minimo del 31 di marzo che è 32.902 veniamo allo standard per 500 in questo caso abbiamo una situazione meno negativa perché comunque la cammina di informazione una spinning top simil doji se vogliamo vedere il pelo nell'uovo adesso sarebbe leggermente sotto il massimo del 2 di febbraio che era livello 4.195 di breakout rialzista quindi se dovesse chiudere sotto questi 4.195 per le prossime sedute è possibile un ritest di 4.153 ed eventualmente della rialzista partita dai minimi del 13 di marzo nasdaq il nasdaq come vi dico da diverso tempo sta facendo una gara se oggi addirittura sta provando ad andare a rompere a rialzo ad uncinare a rialzo quindi per il nasdaq dobbiamo essere al momento molto positivi perché ormai gli obiettivi sono 13.047 13.181 torniamo ai livelli della seconda e terza settimana di agosto dello scorso anno dax dax dopo i massimi storici di venerdì seduta interlocutoria quindi una doji al momento nulla è ancora compromesso però diciamo che potrebbe fare anche un consolidamento fino a 16.069 che è il minimo di giovedì cac anche qui dopo il tentativo di rottura non riuscito bene o male di giovedì di venerdì scusate perché poi ha chiuso con una simile shooting star oggi fa una candela spinning top simile doji quindi l'importante è che riesca a tenere questa rialzista partita dai minimi del 20 di marzo diversamente potrebbe tornare fino a 7.426 e poi 7.354 però diciamo che al momento l'ipotesi più probabile è sempre quella del trading range per cui finché non usciamo da questo ampio trading range livello chiave arrivato a 7.300 il massimo è addirittura corrispondente al massimo storico a 7.581 che abbiamo toccato il 24 di aprile è banale dirlo ma non si va da nessuna parte eurostox più o meno stessa situazione adesso la candela informazione oltre a essere candela inside è anche doji per cui non deve perdere 4.368 per un 4.323 però ripeto anche qui non bisogna ancora aver messo da parte l'idea di un nuovo breakout rialzista che porterebbe a quel punto a ritestare i massimi storici a 4.415 parliamo della terza settimana di novembre del 2021 e poi eventualmente anche superarli l'euro stocks banks continua questo trading range piuttosto delineato perché siamo ormai a 3 3 6 9 11 sedute consecutive i livelli sono a ribasso 100.91 a rialzo 105.38 se dovesse uncinare al rialzo perché adesso è più nella parte alta del range il target diventerebbe almeno 107.65 massimo del 25 di aprile Futsimib Futures oggi abbiamo provato ad andare a rompere i massimi del 17 di aprile 27.620 abbiamo fatto un massimo a 27.555 e adesso stiamo facendo anche qui una spinning top simil doji vi porto qui il grafico del Futsimib tick by tick di sfera perché ci aiuta a capire bene quanto è accaduto oggi ovvero mercato che dopo un laterale soprattutto nella fase di preapertura del mercato cash ha accelerato a rialzo con una correzione iniziale del movimento quasi completa ma poi nuova accelerazione fino ai massimi di giornata a 27.555 questo avveniva circa le 10 e tre quarti poi consolidamento ma ritracciamento abbastanza significativo fino al nuovo minimo intraday a 27.245 ed è accaduto questo più o meno alle 16.10 e adesso stiamo rimbalzando i contratti FIB non sono male 17.040 al contrario non benissimo gli scambi perché siamo tornati sotto i 2 miliardi adesso veniamo alla parte più difficile del mio lavoro oggi nel cercare di spiegarvi la giornata alla quale abbiamo assistito ovvero per quanto riguarda il FIB grossi problemi non ce ne sono è moderatamente positivo invece il Futsimib cash oggi è perso lo 0.76 perché c'è stato a rotondo questo 1.30% meno dovuto allo stacco dividendi a livello di andamenti ovviamente vi voglio far vedere qui da Borsa Italiana quello che vi avevo detto già all'inizio di questo video Montepaschi vedete più 3.92 nessun problema già Montclair più 2.31 abbiamo invece se prendiamo un grafico non rettificato un più 0.53 per cui io mi affiderò ai livelli del grafico non rettificato e in più ve lo voglio già dire devo per forza andare a considerare i livelli che le mie piattaforme di trading e anche Borsa Italia stessa considerano come livelli per quel calcolo da quando c'è Optic che prevede il riferimento del venerdì trasportato a lunedì già depurato del dividendo adesso di conseguenza andiamo a vedere i titoli migliori e peggiori tra quelli a più larga capitalizzazione ovviamente dobbiamo cominciare per forza da Montepaschi e in questo caso vi tolgo un attimo le medie così ecco che possiate vedere il titolo si sta impostando piuttosto bene probabilmente nelle prossime sedute potrebbe arrivare anche a testare i massimi di periodo che sono stati il 20 di aprile a 2.35 il 19 di aprile ha fatto 2.34.6 la ribassista partita dai massimi di 21 di febbraio perdonatemi sono sempre un po' più stanco perché mi alzo un'ora prima alle 5.35 per preparare la newsletter quindi a quest'ora arrivo un po' in affanno trendline ribassista partita dai massimi del 21 di febbraio rotta direi dal 12-15 di maggio adesso sta consolidando e è pronta Montepaschi per una nuova accelerazione a rialzo questo 2.34.6-2.35 è ampiamente raggiungibile a questo punto se il trend rimane solido che cosa può metterlo in discussione un ritorno sotto la media mobile a 50 2.075 oppure diciamo punto di non ritorno 2.052 minimo dell'8 di maggio adesso rimettiamo subito le medie che poi per gli altri titoli se no facciamo fatica a Montclair come vi ho già fatto vedere l'esempio il grafico ci dice più 0.53 in realtà ha fatto più 2.31 secondo ripeto i dati delle mie piattaforme di trading ma ne ho 3 con diciamo intermediari diversi non ho solo 8 perché quelle storiche che avevo ancora prima di iniziare con Giotto le ho mantenute nel tempo e di conseguenza tengo conto di questo valore il grafico però ripeto mi dice un'altra cosa cosa mi dice interessante il grafico? una cosa davvero importante che il titolo è andato a chiudere il gap lasciato aperto sul massimo del 12 di aprile a 63.90 ha fatto un minimo a 63.70 perdendo momentaneamente l'interdella media mobile a 50 64.1 ma ha chiuso a 64.7 io continuo a non vedere un andamento così positivo per Montclair perché per me deve tornare fino a 62.5 62.1 però teniamola monitorata perché potrebbe essere un buon segnale il fatto che oggi abbia chiuso il gap e abbia tentato un rimbalzo Brunello Cucinelli in questo caso io ricordo benissimo che vi avevo detto peraltro livelli più alti abbastanza più alti di attuali che il titolo sarebbe dovuto scendere così è avvenuto però non è andato nemmeno a testare il minimo del 21 di marzo che è 79.75 quindi attenzione perché se questa lateralità delle ultime quattro sedute non provocherà una rottura ribasso quindi sotto 79.75 il primo altro lo abbiamo già sulla media mobile a 180.5 ci può essere un primo rimbalzo di Brunello Cucinelli fino alla media mobile a 50 85.4 e probabilmente poi fino a questi massimi direi 87.95 88.10 88.15 poi banco BPM in questo caso abbiamo una seduta piuttosto positiva ma ancora il trading range di cui vi avevo parlato direi che se lo vogliamo considerare ampio la sua diciamo ampiezza più larga 3.72 4.11 adesso di importante è che ci siamo allontanati dalla media mobile a 103.85 7 per cui almeno fino a 4.079 4.11 il titolo può arrivare Fineco altro titolo che ha staccato e risulta un meno 2.23 per un grafico non rettificato mentre il valore ufficiale è più di Borsa Italia e credo della maggior parte delle piattaforme di trading adesso io non voglio fare pubblicità a tutti gli intermediari col quale io ho un conto da tempo immemorabile però magari nei commenti scrivetemi se i vostri intermediari fanno tutti il calcolo che io ho sulle mie piattaforme di trading ripeto col riferimento già depurato dallo stacco dividendo parliamo di Fineco che nonostante tutto non perde il 12.1 che è ovviamente livello chiave per le prossime sedute dopodiché si apre però una fase adesso vi ho allargato il time frame a settimanale che può portare almeno fino a 11.84 11.80 Mediobanca Mediobanca vediamo che ha dato un segnale molto importante perché sembra finalmente voler accelerare almeno fino al target naturale che è 10.52 massimo del 9 di febbraio qui l'unico timore che avrei se detenessi il titolo è il gap lasciato aperto a 9.85 e 2 bene anche Salvatore Ferragamo che rimbalza diciamo non in maniera clamorosa ma anche qui abbiamo un meno 0.26 però ha staccato anche Ferragamo per cui il prezzo ufficiale è più 1.62 di positivo e che c'è che sta provando a tenere area 15 per cui se dovesse continuare con questa diciamo con questa lateralità sui minimi di periodo da qui il titolo potrebbe anche ripartire fino direi a 16.44 più o meno il rimbalzo poco sotto a 16.41 c'è la media mobile a 50 molto interessante invece di Assorin perché di Assorin è molto interessante perché pur avendo staccato poco per carità ha chiuso positiva quindi di Assorin in realtà sta provando a costruire una nuova base poco sopra area 100 questo significa che nelle prossime sedute il titolo potrà arrivare fino a 106.9 e poi sulla media mobile a 100 parliamo di 111.15 benissimo non tanto per la variazione ma per il breakout che ha fatto poste italiane perché ha confermato finalmente la rottura di 9.75 oggi ha fatto 10.01 per le prossime sedute direi che l'obiettivo minimo è la chiusura del gap lasciato aperto a 10.1 dopodiché 10.24 e mezzo 10.37 ecco stupisce la forza di campari che continua a essere sui massimi di periodo vedete che anche le sedute come quella del 17 di maggio dove il titolo dà qualche segnale di debolezza poi vengono subito recuperate e ormai come vi ho già detto il target a rialzo per campare è 13.06 ovviamente bisogna sempre prestare molta attenzione perché il titolo è indiscreto ipercomprato poi Banca Generali ha staccato però tutto sommato pur avendo sul grafico una variazione da meno 1.88 ha chiuso a più 1.41 come valore ufficiale di interessante c'è che ha tenuto questa rialzista partita dai minimi del 20 di marzo e ha rimbalzato in maniera quasi millimetrica pochi tic prima della media mobile a 50 29.77 ha fatto un minimo a 29.82 quindi per le prossime sedute potrebbe ritornare sui massimi di area 31 avrebbe ancora un tic di gap da chiudere a 31.03 non male neanche Nexi anche se non ha dato il segnale definitivo di breakout che sarebbe sopra il massimo del 17 di aprile a 7 91.6 con primo target tra media mobile a 200 8.088 e poi questo massimo del 7 di marzo 8.148 non mi è dispiaciuta neanche Telecom perché comunque ha confermato la rottura della trendline ribassista partita dai massimi del 18 di aprile e qui c'è spazio ancora fino alla media mobile a 100 0.28 e 0.04 quella a 50 0.28 e 54 e poi 0.28 e 81 oggi non so se alcuni di voi l'hanno potuta seguire c'è stata poco dopo le 9 l'intervista da parte di Andrea Cabrini a la Briola la DD Telecom non ha parlato male come diciamo se vogliamo naturalezza saper essere fluente ma i contenuti non mi hanno fatto impazzire perché giustamente io ho tra i miei clienti un ex manager di alto livello che ovviamente per discrezione rimarrà anonimo che mi ha detto che non dovrebbe un amministratore delegato invocare quasi il fatto che non si è più monopolisti per cui i risultati sono deludenti perché la concorrenza è troppo diciamo dura se vogliamo che c'è la famosa guerra dei poveri si chiamava una volta Biper risulta un meno tra 26 ma anche Biper ha staccato per cui l'effettivo è più 1,24 in questo caso è una shooting star ma non c'è nessun problema affinché non perde 2,487 direi che c'è stata una se vogliamo positività diffusa su tanti titoli ecco magari anche Azimuth vedete meno 5,50 però dividendo molto buono rimbalza dalla media mobile a 200 19,28 ha fatto 19,255 poi ha chiuso a 19,335 io per farvi capire ho il titolo avevo un prezzo di carico a 19,80 ho preso oggi dividendo mi chiuderò a questo punto sotto 18,35 questo per darvi un'idea un altro titolo che so che seguite in tanti è STM STM io continuo a mantenerla per me un minimo di spazio ancora fino a 42,265 poi la media mobile a 142,61 c'è ancora facciamo anche Saras perché vediamo che ovviamente risulta un meno 14,62 anche se poi il titolo ha fatto più 0,46 l'interessante qui è che non ha perso 1,079 diversamente andrà almeno fino a 1,028 io qui mi riservo di rientrare se dovesse fare base anche a un livello più basso titoli che invece oggi hanno sofferto ancora Case New Holland che dopo la brutta gravestone doji di venerdì oggi perde 1,39 però anche qui il livello alert è 12,48 e mezzo continua anche la debolezza di Iveco che sinceramente però sta come prendendo una pausa di riflessione rispetto al rimbalzo avuto nelle ultime tre sedute il livello chiave qua rimane 7,202 poi per esempio anche Italgas risulta un meno 6,39 perché ha staccato poi in realtà è un meno 1 tra l'altro il titolo ha chiuso quasi millimetricamente sulla media mobile a 200 per le prossime sedute potrebbe arrivare fino a 5,33 per cui purtroppo c'è questo problema dello stacco dividendi e dobbiamo fare un po' di necessità virtù andiamo a analizzare invece i titoli al di fuori del Futsimib non ne devo analizzare tantissimi però per alcuni sono ovviamente obbligato il primo è Giglio Group è uscita questa notizia prima dell'apertura del mercato ve la faccio magari vedere al volo perché così imparate anche a utilizzare il sito di Borsa Italia anche se so che molti di voi lo sanno già fare ovviamente mi raccomando ecco aspettate un attimo ecco deve apparire notizie cliccate qui su notizie poi andate su comunicati societari potete digitare nella ricerca il nome e vi esce però ovviamente essendo uscito questa mattina potete anche andare direttamente alla prima pagina vedete Giglio Group Merchandising Freccia Rossa online offline però non c'è alcun importo quindi pensare che potesse fare un numero del genere non era ovviamente facilmente ipotizzabile perché ripeto non c'è vedete lo straccio di un dato controvalore però titolo compratissimo a questo punto un rimbalzo può proseguire direi non oltre area 1 già 0,90 0,95 6 però non oltre area 1 Labomar c'è stata l'OPA a 10 euro per cui semplicemente il titolo sia adeguato al prezzo di OPA bene per chi ce l'aveva In Novatec so che molti mi hanno anche scritto privatamente per farmi complimenti io non ho alcun merito credo anzi che il titolo sia salito anche leggermente troppo rispetto alle mie aspettative io non ho voluto incrementare la posizione che avevo dalla settimana scorsa perché qui sui minimi avevo fatto una piccola scommessa per me molto piccola diciamo che normalmente entrerei anche con size più grandi la mia analisi è che non sono sicuro che riesca a mantenere quanto dichiarato la società perché con il calo di ricavi di conseguenza di marginalità che ha comportato la fine dell'eco bonus sinceramente mi sembra be strano che nel 2023 riesca a pareggiare i risultati del 2022 però come ho già detto nel video di questa mattina lo ribadisco eravamo arrivati a un EBITDA sotto 4 per cui che la società abbia un EBITDA a 3,9 è decisamente un valore sacrificato per cui può avere un EBITDA tranquillamente a 5 tranquillamente a 6 per cui multiday vi ho già detto che il titolo può tornare fino a poco sopra area 1,70 per il breve abbiamo un primo target sulla media mobile a 50 1,43 3 e poi questo massimo del 28 di aprile 1,49 e questo del 18 di aprile 1,508 poi non vi so dire con precisione perché perché notizie io non ne ho viste però oggi hanno comprato bene più che altro come range come candela per una marobozza white talea l'ex farmae 10,75 11,50 e ha chiuso praticamente sulla media mobile a 200 anche qui il movimento di recupero in atto può proseguire direi fino a media mobile a 100 12,02 poi massimo del 24 di aprile 12,20 continuano a continua a essere comprata casta diva oggi nuovo massimo di periodo e parliamo di massimo precedente 1,24 oggi 1,25 5 vi ho messo un settimanale per farvi vedere qual è il target multi day direi che questo movimento può arrivare almeno fino a 1,33 e mezzo parliamo di prima settimana di ottobre del 2018 poi ecco c'è stato un movimento interessante anche su Fines Food qui però attenzione perché c'è stata questa apertura in gap up piuttosto importante a 7,77 poi ha fatto un minimo a 7,60 è rimasto comunque un gap da chiudere a 7,58 poi ha chiuso a 7,76 ma attenzione che questo movimento io lo spiego soltanto con quel report credo di banca intesa che si è uscito proprio per far notare che se l'abomare è stata pagata così probabilmente Fines Food a questi prezzi è sottovalutata molto bene nonostante lo stacco dividendo data logic perché comunque oggi fa più 0,14 ma ha staccato 0,30 quindi per me è un titolo che qua sta provando a fare una base vi ho già detto che l'importante è che non perda questo 6,76 e mezzo secondo me è livello chiave se invece dovesse andare sopra 7,15 io vedo tranquillamente il titolo almeno sulla media mobile a 50 7,57 e poi sul massimo del 9 di maggio 7,70 ha fatto qualcosina anche Arterra sì ecco Arterra magari ha scambiato scambia poco per oggi un bel hammer minimo 2,16 chiusura a 2,34 e soprattutto recupera in close nuovamente la media mobile a 200 che è a 2,22 quindi la perde in tra dei poi la recupera in close bello il movimento di banca pharma factoring BFF Bank qui qui sicuramente a questo punto sugli 8,40 come area c'è stata una fase accumulativa oggi il titolo fa una bella marbozzo wide con chiusura a 9,18 e superamento della media mobile a 50 che è a 9 io vedo il titolo almeno in area 9,50 per le prossime sedute molto interessante di periodo i vs perché oggi ha fatto un nuovo massimo a 4,49 ma e poi però ha chiuso a 4,83 ma quello che stupisce sono i volumi davvero molto sopra la media per cui sinceramente non mi stupirebbe vedere il titolo almeno fino a 4,64 poi 4,88 e 5 poi vediamo qualche altro titolo che abbia scambiato un po' direi banca IFIS che però oggi risulta solo un più 0,96 sul grafico ma in realtà fa un più 3,81 come variazione ufficiale questo significa che il titolo è pronto a rimbalzare fino a 15,16 15,17 poi poco sopra 15,50 questo massimo qui e mi riferisco al 24 di aprile 15,60 vediamo qualche altro titolo che abbia scambiato un minimo direi che c'è stato un rimbalzo di masi agricola con un minimo in 3 a 4,39 ma poi hammer ed il secondo consecutivo chiusura a 4,54 il massimo di giornate è stato pochi tic sotto la media mobile a 50 4,61 e vediamo ancora ecco BS io ho tenuto duro non sono stato ancora premiato ma ho un prezzo di carico più alto ma ho già incassato settimana scorsa il dividendo oggi c'è un bel breakout della trendline ribassista partita dai massimi del 14 di marzo target per le prossime sedute almeno media mobile a 200 13,52 e poi abbiamo questa area 14 volevo vedere se c'era qualche altro titolo che aveva scambiato in maniera adeguata per poterne parlare direi sicuramente un euro un euro devo dire che finalmente oggi ha fatto più 2,47 ma non mi interessa più di tanto la vedazione quanto il fatto che mi sta provando a dimostrare che vuole tenere area 10 per cui se non perde il minimo di periodo che è 10,03 toccato l'11 di maggio può ritornare sulla media mobile a 50 10,66 e poi eventualmente su questi massimi allineati 11,16 11,17 concludiamo i migliori con mar che devo dire per carità ci può stare un rimbalzino dopo una discesa di 4 stute consecutive però io continuo a vedere il titolo almeno a 13,76 e poi eventualmente a 13,36 già a 13,76 è importante perché il minimo della candela è da più 13,8% adesso concludiamo con i titoli peggiori di giornata oggi dobbiamo partire da due titoli che hanno fatto uno benissimo e l'altro bene nelle ultime sedute Italian Independent il rischio io vi avevo detto che poteva sarebbe potuto arrivare massimo a 1,31 se ricordo bene avevo detto qui 1,31 1,36 ma non oltre oggi ha fatto un massimo a 1,18 tra l'altro in apertura e poi è venuta solo giù è il rischio di quando c'è un titolo in preda alla speculazione adesso diventa molto pericoloso perché c'è un primo gap da chiudere a 0,73 e mezzo e poi un secondo gap da chiudere a 0,60 quindi ribadisco quello che ho già detto operatività riservata secondo me a trader ultra esperti prismi in questo caso dopo aver fatto più 20 e più 49 oggi fa meno 15,79 la notizia secondo me che va scatenato il rialzo non era così significativa era riuscita a diciamo depennare cancellare alcune obbligazioni convertibili per le prossime sedute ci sta un'ulteriore correzione media mobile a 100 0,105 media mobile a 50 0,096 poi direi Vantea Vantea ci può stare perché viene da Berrelli 3,28 minimo del 5 di maggio 4,32 massimo del 16 di maggio l'importante è che non perda 3,71 perché se no si va almeno a 3,52 che è il minimo dell'8 di maggio poi vediamo Expert AI questo caso è una correzione di un rally di breve partito da 0,67 arrivato fino a 0,902 oggi fa un minimo a 0,826 poi chiude a 0,848 io vedo il titolo almeno in area a 0,80 e poi sulla media mobile a 50 che è 0,78 ecco oggi è il primo giorno di vera vendita poi nel finale un po' recuperato di EGLA Eurogroup Lamination minimo interday 5,77 e mezzo poi chiusura a 5,93 però non vorrei che nelle prossime sedute possa andare almeno fino a 5,70 5,62 e mezzo purtroppo ancora molto male l'ottomatica che fa ennesimi nuovi minimi storici per carità è quotata solo dal 3 di maggio però attenzione che questo titolo non ha ancora trovato una sua base poi vediamo ancora qualcosa che abbia scambiato un minimo direi che è molto al limite la situazione di BB Biotech perché se dovesse perdere anche 44,4 che ha toccato anche oggi vedete che vi ho messo un attimo il settimanale si può arrivare fino a 42,6 e poi dura 39,5 direi che altro non posso dirvi perché sono tutti volumi veramente molto molto bassi riepilogando la situazione odierna è ancora di trading range anche se io siccome mi piace schierarmi penso sia più probabile comunque un breakout a rialzo per quanto riguarda il funzionamento magari di un ritorno sui massimi di periodo però visti i volumi così bassi il rischio bull trap è sempre ben presente perché adesso ha rotto a rialzo il DAX nuovo massimo storico se il mercato inizia un momento di correzione anche il massimo storico del DAX verrà probabilmente negato ma al momento l'impostazione tecnica è ancora moderatamente positiva diciamo lateral rialzista su tutti i principali indici europei e statunitensi auguro a tutti buona serata e noi ci sentiamo domattina prima dell'apertura del mercato di urno